Ciao ragazzi, Ivano Arley Davidson Monza, fatemi togliere questa mascherina che è un po' invadente, tanto le distanze ci sono, come sta passando, guardate che oggetto che ho qua da presentarvi questo pomeriggio, è un Arley Davidson Street Glide Special, è bellissima perché è un modello commemorativo, è la numero 249 di 1900 prodotte, 115esimo anniversario in questa colorazione aggressiva blu opaca, la moto ha percorso solo 11.000 km ed è nel 2018 quando Arley appunto compiva 115 anni, gli accessori montati, sissibar e portapatti a sgancio rapido, gli scarichi della Screaming Eagle omologati, ovviamente i touring hanno in serie il navigatore, la presa USB, il vostro attacco per infilare il cellulare e trasportare tutti i dati sullo schermo, l'ABS Reflex ripartito, costa 24.800 euro, garanzia 12 mesi, unico proprietario l'ha acquistata qua, la moto è praticamente nuova, è in conto vendita, vi aspettiamo dalle nostre parti, ricordatevi sempre di seguire lo shop online di questa signorina, del nostro sito, Ivano ha un cioccolatino, ah però, seguitici su Facebook, Instagram e comprate sul nostro shop online www.arleydavidonmonza.com Ciao Re, buone feste, vi aspettiamo dalle nostre parti, a presto!